Ripartono i Corsi Manga Tozai Un saluto amici, oggi ho veramente il grande piacere di poter dire che abbiamo ripreso con i Corsi Manga Tozai. E' fantastico perché già con i primi studenti ci stiamo trovando benissimo, hanno voglia di imparare, hanno voglia di sperimentare, hanno voglia soprattutto di apprendere questa nobile arte. Si cerca sempre di partire dalle tecniche basi, quelle più semplici, per poi crescere man mano, piano piano, a piccoli passi, di livello in livello. La parola d'ordine è imparare divertendoci tutti assieme. A me piace veramente tanto far notare ai nostri studenti come già in poche ore possa cambiare il proprio stile di disegno. Soprattutto far notare come ciò che prima era impossibile da fare, poi invece piano piano comincia ad essere possibile e soprattutto comincia ad essere un qualcosa che ti piace, che ti prende sempre di più. Durante il corso capita che magari alcuni si scoraggiano perché dicono eh ma i miei disegni non sono belli, eh ma i miei... Io ricordo sempre il mondo non si è fatto in un giorno solo, ci ha voluto il suo tempo anche per quello. Ma piano piano le cose cambiano e una cosa che a me fa veramente piacere è vedere come questi ragazzi che non si sono mai visti, non si sono mai conosciuti, assieme creano, anche se online, un gruppo. Cominciano a guardare i disegni l'uno dell'altro, cominciano a parlarsi, a scambiarsi le reciproche opinioni e soprattutto, ripeto ancora una volta, a divertirsi tutti assieme. E quindi un grazie a Maestro Tassonoto, un grazie a Dosai e che posso dire ragazzi? Vi aspetto. Mi raccomando, un saluto! Grazie a tutti!